È sempre più lontana l'ipotesi di vendita di quote dell'Aquila Calcio. Si tratterebbe della terza volta dopo le trattative arenate con Deodati e Vecchio nel corso degli anni passati. L'ennesima voce è rimasta tale per Giunta in un periodo delicato come quello che sta attraversando la compagine rosso-blu tra la lotta alla salvezza e il processo sportivo per il caso calcio scommesse. Questa volta al cospetto del club Aquilano si era presentato un gruppo di imprenditori tra cui Enrico Folgori, ex vicepresidente del Martina Franca e Massimo Macchi che in un primo momento si pensava potesse agire per conto della Graziella Group, azienda orafa toscana per la quale è poi arrivata nelle scorse ore la secca smentita del presidente Gianni Gori che ha dichiarato a chiare lettere di non voler investire nel calcio. Ad ogni modo, nella giornata di mercoledì, l'Aquila aveva offerto il 12,5% delle quote per una cifra pari a 100.000 euro. Da due giorni però i potenziali acquirenti sono spariti. In realtà erano intenzionati ad acquistare almeno la metà delle quote ma tramite un acconto ed un pagamento dilazionato. I dirigenti aquilani si sono posti chiedendo un ingresso graduale per valutare le loro reali intenzioni e disponibilità economiche. A questo punto però, senza più alcun contatto tra le parti, il club Rosso Blu sta raccogliendo autonomamente tra i soci, anche se a fatica, i 400.000 euro necessari per pagare gli stipendi dei giocatori entro il 16 febbraio. La novità sostanziale è che dietro le quinte ad aiutare il presidente Corrado Chiodi e il suo vice Massimo Mancini ci sia lo sponsor Eliseo Iannini. L'imprenditore aquilano, già presidente dell'Aquila nei primi anni 2000, metterà nelle casse rosso-blu circa il 25% della somma necessaria, tradotto 60.000 euro, proprio come Chiodi e Mancini. Un ulteriore passo in avanti verso il suo ritorno effettivo in società? Presto per dirlo, ma i presupposti ci sono tutti.